oggi voglio vivere con voi un sogno il sogno di cameo italiano e sono proprio del negozio cameo italiano insieme a debora assolutamente ciao debora ben trovata cameo italiano ci fa sognare perché è un gioiello che ci parla di lusso ma è un lusso accessibile al quale veramente possiamo accedere tutte quante noi donne ce n'è per tutti i gusti e un lusso anche antico che perché una tradizione antica quella della lavorazione su cameo parliamo di torre del greco zone bellissime tra l'altro è un mare eccezionale e ci porta tutto quel sapore no tutta quella storia del mare bellissimo cosa ci presenti presentiamo questo meraviglioso bracciale di perle d'acqua dolce con il volto su fondo corniola che è la conchiglia più chiara si chiama corniola perché è uguale alla pietra corniola come colorazione e abbiamo poi questa lavorazione molto bella intorno al volto con dei zirconi dei zirconi chiari senti sembra quasi una medusa ora parlando sempre un po di mitologia perché poi temi raffigurati sono appunto donne oppure sono eventi mitologici e la medusa una donna importante attenzione a chi ci guarda assolutamente quindi attenzione senti molto bello d'estate da portare proprio con la manica corta oppure anche con una manica leggermente diciamo tre quarti per essere bene in evidenza sì mi piace sempre il mix tra tradizione quindi le perle una donna un abbigliamento più casual che va in contrasto assolutamente perché questi gioielli si possono appunto indossare in ogni in ogni modo in ogni forma con ogni outfit dal look più contemporaneo moderno anche leggermente trasgressivo perché no a quello più classico romantico anche romantica e poi è bello perché possiamo raccontare una storia con cameo perché c'è tanta storia proprio anche per quel che riguarda la modalità d'indosso anche in questo caso il volto di donna può cambiare a seconda di come lo mettiamo se all'interno o all'esterno ma se volete sapere guardate anche bene tutte le storie di cameo italiano con tanti aneddoti grazie debora grazie roberta